Fine settimana impegnativo per i militari della compagnia Carabinieri di Sanremo che hanno rinforzato i controlli, intensificando i servizi sul territorio per prevenire condotte illecite da parte degli automobilisti e per contrastare i reati come furti e rapine, lo spaccio e l'assunzione di sostanze stupefacenti, la vendita illecita di merce con marchio contraffatto. Tre giovani studenti sorprese da una pattuglia della stazione di Badaluco con tre frammenti di hashish del peso di 10 grammi circa sono stati segnalati al Dipartimento Tossicodipendenze della Prefettura d'Imperia quali assuntori di sostanze stupefacenti, inoltre denunciato all'autorità giudiziaria per guida senza patente poiché mai conseguita un artigiano imperiese sorpreso alla guida di un'autovettura a Montalto Ligure. I militari della stazione Carabinieri di Arma di Taggia sono invece intervenuti presso l'abitazione di un 45enne di origini calabresi residente a Taggia. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto sorpreso con oltre 156 mili cannabis indica pronti per la coltivazione, più uno strumento utilizzato per tritare lo stupefacente. Risponderanno invece del reato di guida in stato di ebrezza un 28enne italiano residente nel torinese e una donna cinquantenne di origini milanesi sorpresi nella notte alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di Grimaldelli, un cittadino extracomunitario controllato a bordo di un motociclo risultato rubato nel Bresciano, L'uomo tunisino, 43enne, nascondeva inoltre sotto la sella una serie di cacciaviti, pinze ed altri arnesi da scasso. Sul fronte del contrasto alla vendita abusiva di merci contraffatte, la stazione Carabinieri di Sanremo, nell'ambito dei controlli disposti in occasione del mercato settimanale, ha denunciato due extracomunitari di origini senegalesi residenti a Sanremo ed in regola con la documentazione di soggiorno sorpresi con centinaia di manufatti, borsi, occhiali, portafogli ed etichette fasulle di griff internazionali pronti per lo smercio a turisti e villeggianti. I due stranieri risponderanno del reato di ricettazione e detenzione di merce contraffata destinata alla vendita. La merce stessa, che avrebbe fruttato al dettaglio parecchie migliaia di euro, è stata sottoposta a sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.